buongiorno buongiorno grazie a tutti questo questo è per il circolo noi con la consueta meticolosa organizzazione militare non abbiamo cose spiegate bene diciamo che oggi no però è fuori al banchetto in molte copie e siamo forti nella capacità autopromozionale siamo fortissimi e allora buongiorno grazie molto a tutti e grazie naturalmente come ogni anno grazie a Francesca Vittani che ci sta portando mettendo una pezza sulle nostre inadeguatezze il numero di cose spiegate bene e grazie soprattutto appunto al circolo per aver ripreso questi appuntamenti anche quest'anno dopo diciamo lo dico subito da adesso così su questo almeno ci prepariamo dopo Francesco tirerà fuori anche le date dei prossimi da qualche parte e cominciamo appunto lo facciamo subito e ci togliamo subito il dente ma è l'opportunità migliore cominciamo col dire che ritorniamo a parlare di giornali e raccontare cosa succede ai giornali a partire appunto dalle rassegne stampa del mattino in cui facciamo questi incontri avendo concretizzato molte delle cose che ci siamo detti qui in questi anni e che continuiamo a dirci perché sono tutte in evoluzione dentro appunto il nuovo numero della rivista del post rivista che si chiama cose spiegate bene che abbiamo deciso di dedicare esattamente ai giornali all'informazione al giornalismo approfondendo ed estendendo molte cose che chi è già venuto qui o chi segue la newsletter del post domenicale che si chiama Charlie ha avuto modo e a modo di seguire nei loro pezzetti brandelli informazioni aggiornamenti che diamo e a cui abbiamo deciso di dare una maggiore strutturazione completezza raccontando molte cose come negli altri numeri di cose spiegate bene alternando a cura della redazione del post articoli e testi che spiegano come funzionano delle cose all'interno dell'informazione dei media del giornalismo e come sono cambiate soprattutto in questi ultimi due decenni le spiegano in parte viste da dietro da come vengono fatti i giornali in parte anche cercando di mettersi nei panni dei lettori e spiegando istruzioni e informazioni appunto per la comprensione di meccanismi di cose che poi troviamo sui giornali quello che facciamo spesso anche in questa rassegna stampa poi raccontando anche singolari storie invece di risultati prodotti avvenimenti eventi all'interno dei giornali il tutto quanto alternato come facciamo di solito fingendo una certa umiltà autocritica alternando alle cose che il post fa diciamo un po molto fattuali molto concrete molto didascali che molto di spiegazione agli interventi di alcuni autori ospiti che vivacizzino un po tutto questo che in questo numero sono annalena benini di diciamo recente torinesità in quanto direttrice del salone del libro oltre che giornalista del foglio da tantissimi anni mario tedeschini lalli che è un bravissimo esperto e attento raro osservatore esperto e competente di tutte le evoluzioni dell'informazione digitale in italia perché è stato protagonista e complice delle prime cose che sono fatte nei giornali all'interno del gruppo espresso alla fine del secolo scorso e che ha scritto un testo molto interessante ancora molto attuale su quello che sta succedendo dove deve andare all'informazione digitale e Michela Murgia di cui non dico nient'altro insomma basta che dico che c'è un testo di Michela Murgia e il fatto che era stato consegnato da poco e Carlo Verdelli direttore oggi di oggi scusate il bisticcio prima di molti altri giornali importanti e grande esperto del giornalismo italiano in tutti i suoi passaggi con un racconto molto avvincente e divertente naturalmente anche molto rilevante nel paragone fra il cambiamento dei tempi ma anche avvincente su quello che successe nella redazione del Corriere della Sera la notte che morì Lady Diana nel tunnel dell'Alma a Parigi e con questo diciamo chiudiamo l'introduzione autopromozionale noi ci siamo visti credo l'ultima volta ad aprile tra nell'interno diciamo del panorama dei giornali quotidiani italiani di cui parliamo da allora alcune cose sono successe alcune cose valgono quelle che ci siamo detti e su cui magari ripasseremo man mano che raccontiamo i giornali di oggi alcune nuove ne sono successe se non sbaglio quando ci eravamo visti era stato appena cambiato il direttore di domani quotidiano le cui vicende sono molto interessanti perché in questi tempi difficilissime è un quotidiano che è riuscito diciamo a nascere come quotidiano nuovo e anche a trovare un proprio spazio quantitativamente non molto alto ma comunque di attenzioni e qualità dei contenuti e che però diciamo fa ancora un po' fatica a raggiungere uno maggiore o almeno a quello che era nelle aspettative del suo editore Carlo De Benedetti quando è stato lanciato e quindi dentro queste appunto fatiche e contraddizioni si è ritenuto di sostituire il suo direttore lo scorso aprile con un direttore nuovo che peraltro era il vice direttore quindi non è un cambiamento particolarmente traumatico forse così per dire la cosa più superficiale vistosa è che c'è un po' un tentativo di normalizzare alcune cose di domani che magari erano più inventive all'inizio ma si sono rivelate un po' più spratiche e la prima pagina di domani comincia a essere più affollata no era una prima pagina nata con un'identità molto riconoscibile e diversa di articoli completamente riprodotti sulla prima pagina e quindi solo due articoli di solito in prima pagina qualche piccolo richiamo adesso appunto oggi ce ne sono ci sono quattro grossi richiami sulla prima pagina oltre che i tre richiami più piccoli e appunto forse c'è un tentativo di rendere più familiare e normalizzare il giornale le altre cose scusa aggiungo una cosa domani perché l'altra cosa che si nota ed è anche una cosa che è molto facile andare a guardare se volete sapere capire più o meno lo stato di salute di un giornale e quanta pubblicità ha cioè quanti inserzionisti hanno effettivamente comprato degli spazi sul giornale e il sabato è un giorno di solito di tanta pubblicità perché uno dei giorni in cui si comprano di più giornali insieme alla domenica perché le persone hanno più tempo di leggere ed effettivamente notavamo oggi sfogliando il Corriere Repubblica ma anche gli altri giornali hanno parecchie pubblicità rispetto agli standard domani oggi non ha nessuna pubblicità a parte queste due che credo si chiamino manchette di emergency accanto alla testata per il resto non c'è nessun'altra pubblicità in tutto il giornale salvo questa nella pagina finale che peraltro è una pagina presente oggi su tutti i giornali poi magari ne parleremo ma insomma un quotidiano che il sabato non ha a parte questa pagina qui che è una campagna nazionale su tutti i quotidiani nessuna pubblicità non è un quotidiano che versa in ottima salute evidentemente sì appunto questa è una condizione che è sempre durata in tutto il tempo della vita di domani appunto una grossa evidente grossa difficoltà nella raccolta pubblicitaria è vero diciamo che gli investimenti pubblicitari si concentrano tantissimo sulle due tre quattro maggiori testate sugli altri sono molto più limitati però anche sugli altri giornali più piccoli persino sul foglio che possiamo mettere dal punto di vista della scala quantitativa sullo stesso piano di domani sono sicuramente maggiori e le altre cose rilevanti in quel campo in quell'ambito in quelle testate lì che sono successe sono successe nel giro nel gruppo dei giornali del centro-destra brevissimo riassunto non facciamo tutta la storia che è molto lunga per quanto avvincente ma insomma in italia ormai è molto più ricca la compagine di quotidiani di destra e centro-destra che non quella di sinistra e progressisti con una grande sproporzione di testate e in questo gruppo tutti quanti nati diciamo un po' uno da una costa non tutti quanti ma nati un po' da una costa dall'altro ci sono il giornale libero e la verità e poi in una posizione diversa perché è un giornale locale benché di storia illustre e locale della capitale c'è anche il tempo molto diciamo un tempo in competizione con messaggero a roma ma oggi diciamo competizione diventata inesistente dal punto di vista della scala appunto fra la diffusione del messaggero e la diffusione del tempo peraltro scusa due di questi tre quotidiani anzi tre di questi quattro contando anche il tempo sono dello stesso editore perché un'altra cosa che è successa è che angelucci impregnatore delle cliniche private parlamentare del centro-destra ha comprato il giornale dalla famiglia berlusconi e oggi c'è sul foglio una lungo articolo di michele masneri che fa un ritratto di alessandro sallusti che in tutto questo è tornato io per seconda è tornato al libero dal giornale no è tornato al giornale dal libero fanno queste staffette ogni sei mesi quindi uno perde il filo ma in questo articolo si dice che gli angelucci forse sarebbero interessati anche a comprare la verità è stato diciamo molto in valo mi è piaciuto questa parentesi che è aperto che in sostanza era la cosa che volevo dire adesso non ho niente a dire adesso tu invece fai l'analisi diciamo no effettivamente diciamo la notizia era questa cioè che appunto la famiglia angelucci editori molto impuri diciamo come quasi tutti gli editori italiani nel senso che le loro ricchezze e fortune hanno a che fare soprattutto con le cliniche private e che possedevano già libero e il tempo oltre alcuni quotidiani locali minori il Corriere dell'Umbria oltre a essere il capostipite della famiglia un senatore in questo momento non mi ricordo più perché ha fatto un po' di passaggi credo che sia nella Lega adesso sì tra la Lega e Fratelli d'Italia forse ha comprato anche il giornale cioè diciamo la testata madre da cui poi per scissioni successive erano venuti libero alla verità approfittando del fatto che in Mondadori e in particolare Marina Berlusconi capo appunto le sue attività impegno maggiore sono alla guida di Mondadori da tempo c'è una grande dismissione di tutta l'attività giornali Mondadori ha deciso anche diciamo a conti fatti perché è molto prospera in quel settore di concentrare tutte le sue attenzioni sui libri e di dismettere tutto il patrimonio di giornali ne ha progressivamente venduti molti dei suoi periodici erano praticamente tutti periodici e poi c'era una proprietà che diciamo di minoranza di Mondadori ma di maggioranza di Paolo Berlusconi insomma tutta la famiglia Berlusconi si è liberata volentieri anche del giornale con qualche tormento sentimentale di Silvio Berlusconi quando era vivo che diciamo era affezionato a quel progetto ma alla fine si sono convinti così e quindi appunto l'hanno venduto agli angelucci che oggi appunto possiedono sia il giornale che è libero e ogni tanto è riaffiorata negli ultimi mesi la possibilità che acquistino anche la verità da Maurizio Belpietro diciamo anche lui proveniente da tutta quella filiera giornalistica lì che si era aperto un giornale per conto suo e oggi anche un piccolo gruppo editoriale dentro questo panorama e anche altre cose che Belpietro ha comprato da Mondadori tutto questo è stato un po' letto politicamente appunto in una distribuzione di testate e attenzioni che Angelucci vorrebbe avere all'interno del centro-destra quindi appunto con l'idea che il giornale rimanga il più moderato e magari più vicino a quello che era come prima l'elettorato di Forza Italia che libero diciamo invece abbia continua ad avere le posizioni più radicali usiamo questo termine però è anche interessante giornalisticamente intanto perché prosegue come diceva Francesco questo storico rotazione di direttori e quindi appunto Alessandro Sallusti è tornato e con lui Vittorio Feltri è tornato a sono tornati al giornale questo ci toglie peraltro il pezzo di Feltri del sabato sul libero che era un highlight della nostra segna stampa oggi non c'è no c'è la sua c'è una specie di risposta alle lettere dei lettori terribilmente sobria adesso non so se è oggi perché non ho no forse diciamo un nuovo editore forse sì appunto ha deciso di reincarnare diciamo il rappresentante del giornale più moderato però non lo so perché non ho letto spesso il giornale negli ultimi giorni quindi potrebbe essere semplicemente una giornata sfortunata per noi però appunto giornalisticamente poi sta portando anche alcuni cambiamenti anche in questo caso anche alcuni cambiamenti formali e superficiali ma interessanti il giornale ha cambiato una parte della sua grafica e una parte dei suoi fonti in particolare rendendola più simile a quella di Libero nella mia impressione con una specie di impoverimento prima commentavamo diciamo non ce ne voglia l'art director del giornale che spesso gli art director diciamo sono così avanti che noi non prendiamo diciamo la loro capacità creativa ma ci sono alcune cose nei titoli del giornale che fanno un po' l'effetto di quando il computer non ti carica esattamente il font giusto e quindi mette un Arial in sostituzione e alcune pagine in cui la quantità di fonte di caratteri diversi è effettivamente un pochino cacofonica pagina 8 per esempio sì esatto ma qui addirittura se sali poi c'è nel blocco delle foto ce n'è ancora un altro però vedete appunto quel titoletto del reportage vedete il titolo il sommario e di nuovo persino con la scelta di usare invece il font della testata del giornale laddove si cita il giornale fa un po' disordine detto questo tanti anni fa c'è una lezione che abbiamo imparato dal fatto che i giornali che apparentemente sembrano avere una veste superficialmente più sciatta povera poco pensata e poco cool poi possono funzionare straordinariamente bene lo stesso quindi appunto è un tema interessante anche perché si lega a un sacco di cose di comunicazione politica anche negli ultimi anni cioè l'idea è che una comunicazione che graficamente sia molto bella molto curata suoni posticcia mentre invece un banner fatto con Microsoft Paint o un giornale brutto nella sua bruttezza comunichi una qualche autenticità e che quindi sia più facile fidarsi di un giornale brutto che di uno molto elegante chissà può darsi sì sì forse appunto la sinistra e i progressisti diventeranno non solo il partito della ZTL ma il partito della coolness grafica ricercata e raffinata mentre noi altri popolo diciamo vogliamo il Comic Sun detto questo diciamo sulle cose che sono successe in generale ai giornali forse ce ne sono due che si possono aggiungere sulle due testate maggiori che in questo caso diciamo hanno a che fare con altro una è al Corriere è a che fare con diciamo i posizionamenti politici il Corriere ha progressivamente diciamo con la cautela e la capacità mimetica del Corriere è però assunto sempre di più delle posizioni di straordinaria indulgenza mettiamola così nei confronti di questo governo e di questa maggioranza oggi ci sono ben due interviste a due ministri di questo governo scelta che da una parte sta nelle tradizioni del Corriere di non essere mai stato qualunque governo ci fosse un giornale particolarmente all'opposizione dall'altra sta anche in una scelta di efficacia diciamo anche dal punto di vista giornalistico perché appunto anche le due interviste di oggi lo dimostrano è evidente che questa vicinanza del Corriere della Sera a rapporti, relazioni e comunicazioni e indulgenze nei confronti del governo crea per il Corriere della Sera anche una grande occasione di accesso e anche per il governo una grande occasione di promozione un governo che naturalmente come tutti i governi e tutte le forze politiche diciamo è interessato a comunicare parlare con tutti e far arrivare le proprie posizioni attraverso i giornali ma che si trova in una condizione di frattura rispetto agli altri due maggiori quotidiani nazionali cioè Repubblica La Stampa quindi sicuramente questo governo è più interessato a parlare attraverso il Corriere sicuramente il Corriere è molto interessato ad avere esclusive come si dice o anteprime e relazioni privilegiate con le comunicazioni del governo e questa cosa si vede molto in molte parti del giornale venendo invece diciamo all'altro primo giornale nazionale un tempo concorrente del Corriere oggi per tutte le vicende su cui non stiamo qui le abbiamo raccontate molte volte e le raccontiamo anche dentro questo numero alcune cose spiegate bene straordinariamente distaccato dal punto di vista dei numeri dei cartacei cartacei anche delle loro edizioni digitali la competizione tra il Corriere e Repubblica non esiste più in Italia i numeri del Corriere sono quasi doppi ormai rispetto a quelli di Repubblica mentre invece sul web ovvero sui siti la competizione c'è ancora diciamo negli ultimi dati di traffico mi pare fosse un po' più avanti Repubblica ma sono molto vicini dentro Repubblica c'è una piccola ma sensibile novità dal punto di vista editoriale di come vengono fatti i giornali e delle loro scelte degli ultimi giorni oggi molto annunciata e proclamata già annunciata nei giorni scorsi ovvero che l'inserto culturale di Repubblica che si chiama Robinson l'inserto culturale dei libri da questa settimana comincia a uscire la domenica e non più il sabato scelta interessante perché significa andare sul terreno intanto sul terreno tradizionale dell'inserto culturale che è la domenica andare sul terreno tradizionale degli altri inserti culturali maggiori ovvero la lettura del Corriere della Sera e il Domenicale del Sole 24 Ore e che è spiegata con molte ragioni enfatico simboliche, romantiche o tutto quello che volete sul giornale di oggi l'editoriale mi permetto con rispetto diciamo di leggervi le prime parole dell'editoriale del direttore di Maurizio Molinari che fa tutte le cose di cui si deve occupare da direttore e naturalmente deve scrivere anche l'editoriale per il nuovo posizionamento del giorno della settimana non ha più tempo di farsi vedere delle idee non sa più cosa scrivere e quindi il suo editoriale comincia così per affrontare le sfide di un mondo che si trasforma che è l'incipit che è buono per qualunque cosa Robinson uscirà la domenica Robinson uscirà la domenica diciamo per affrontare le sfide di un mondo che si trasforma però c'è anche una ragione molto concreta e anche questa è molto interessante nella storia dei giornali e del giornalismo italiano che da questa settimana l'Espresso non esce più la domenica con Repubblica l'Espresso è stato venduto dal gruppo Jedi che già si chiamava Gruppo Espresso diciamo per ricordarsi quanto fosse rilevante quella testata un tempo all'interno di quel gruppo l'anno scorso e con un accordo che prevedeva che comunque così come è successo negli ultimi anni il giorno storico di uscita dell'Espresso è sempre stato il venerdì ai tempi dei settimanali quando erano importanti e della competizione con Panorama poi diciamo quando i settimanali sono andati in crisi molto in crisi a un certo punto il gruppo ha deciso di far uscire l'Espresso come allegato di Repubblica e di spostare il giorno di uscita alla domenica quindi l'accordo con i nuovi acquirenti dell'Espresso era stato che questo distacco sarebbe avvenuto un po' più avanti nel tempo perché naturalmente l'uscire con Repubblica la domenica è un vantaggio i numeri di diffusione dell'Espresso che oggi sono fino a questa settimana erano ancora abbastanza rilevanti e notevoli si devono in sostanza al fatto appunto che fosse allegato a Repubblica questo distacco è avvenuto questa settimana Repubblica si trova quindi senza un inserto, un allegato una cosa da offrire di più con un prezzo maggiorato ai propri lettori la domenica che è un giorno diciamo abbastanza importante e rilevante oggi Enrico Franceschini appunto in questa ricca offerta di articoli che raccontano di questo cambiamento spiega l'importanza del supplemento della domenica nel giornalismo e nell'editoria inglese e americana e del tempo della lettura della domenica eccetera eccetera e quindi diciamo Robinson viene spostato in quella posizione lì che però posso dire scusa poi il cambiamento è che è anche una cosa molto poco rilevante diciamo in termini maxi ma avevano scelto loro di far lucere il sabato cioè oggi ci sono due pagine in cui loro dicono perché Sunday è meglio uscire la domenica si inserisce in una lunga tradizione anglosassone tutti i maggiori quotidiani della terra concentrano i propri inserti nel settimo giorno quello in cui perfino il Signore e il Dio riposò perché l'avete fatto uscire di sabato in questi dieci anni voglio dire non è che mi ha costretti qualcuno se era così evidente che la domenica è meglio mi permetto di spezzare una lancia come sempre diciamo nei punti delle cose che non sappiamo va a sapere dinamiche i meccanismi ma uno dice da oggi Warren Opinz non esce la domenica senza farci due pagine che ci spiegano perché la domenica era una cosa più sensata da fare detto questo io mi sto radicalizzando a forza di fare morning questa è la grande verità è che sto diventando un terrorista prima o poi il direttore mi toglie il microfono e il podcast detto questo possiamo cominciare a parlare dei giornali di oggi forse diciamo un'ultima cosa che dico legandomi ai giornali di oggi visto che abbiamo citato le due interviste con grande spazio a due ministri di questo governo sul Corriere della Sera è che nel campo interviste ai due maggiori quotidiani sta un po' scappando la mano ultimamente cioè l'intervista di una pagina a personaggi anche molto slegati dall'attualità anzi rivendicando il loro essere slegati dall'attualità ormai è un format buonissimo evidentemente hanno delle valutazioni che gli dicono che tutto questo funziona e genera un interesse in gran parte sono interviste a personaggi appunto molto slegati dall'attualità in cui si capisce che c'è un'idea di avere dei lettori molto anziani con curiosità rispetto a personaggi dimenticati oppure non dimenticati ma che non si sentono a tanto tempo e oggi sul Corriere della Sera ci sono no sul Corriere della Sera c'è Susie Blady su Repubblica c'è Pizzul ah sì vero però appunto questo ennesimo passo avanti di rotocalchizzazione dei quotidiani maggiori appunto lo si vede molto con delle interviste a questo tipo di personaggi che spesso sono anche interessanti e piacevoli alla lettura poi diciamo si è sempre indulgenti nei confronti di qualunque intervista a Pizzul anche quando Pizzul dice che il bello della vita è il gallo che canta la mattina e i bambini che giocano all'oratorio che ci siano ancora i bambini che giocano all'oratorio accanto a casa di Pizzul mi sembra una notizia rassicurante allora cosa succede oggi sui giornali che giornata è rispetto all'introduzione che facciamo di solito su se c'è una notizia grossa ci sono più notizie ognuno va per conto suo ci sono un po' di notizie c'è una notizia c'è un anniversario importante tutte queste cose si vedono nelle prime pagine peraltro in modi diversi diciamo la notizia più grande è la stessa notizia di cui si parla ormai da diversi giorni e cioè il grande aumento degli sbarchi in Italia di migranti arrivati attraverso il Mediterraneo che sta mettendo sotto forte pressione innanzitutto l'isola di Lampedusa che fa da catalizzatore di questi sbarchi ovviamente c'è tutta la questione politica attorno a questi sbarchi c'è un governo ancora relativamente nuovo che se ne sta occupando un governo diventato governo anche per delle promesse molto forti e perentori sull'immigrazione come fenomeno che poteva essere controllato gestito se solo Fratelli d'Italia per esempio fosse stato al governo e oggi si sta un po' invece incartando questa visione c'è quello che è successo a Derna in Libia dove una non si può nemmeno definire un temporale ma un ubifragio di dimensioni per la Libia abbastanza epocali ha fatto sì che saltassero non una ma due dighe di un sistema di irrigazione che attraversava la città di Derna provocando un disastro di cui i giornali non riescono nemmeno bene a raccontare le dimensioni anche perché siamo in un contesto di un paese che non ha un governo vero da ormai più di dieci anni e quindi i numeri delle persone morte persone soccorse persone disperse sono numeri molto aleatori c'è chi dice duemila c'è chi dice seimila diecimila non si scoprirà mai per come erano fatte questi canali di irrigazione che portavano dalla terra verso il mare e Derna sta sulla costa l'acqua travolgendo qualsiasi cosa ha travolto anche un sacco di persone per cui i numeri per esempio delle persone morte stanno venendo composti attraverso il ripescaggio di corpi in mare perché sono stati sparati verso il mare oggi è il primo giorno in cui ci sono delle fotografie che sono arrivati nel frattempo i giornalisti gli inviati fotografi a Derna e quindi almeno le foto aiutano un po' a farsi un'idea di quello che è accaduto ma siamo ancora lontanissimi tra l'altro dal punto di vista appunto di questa storia della sua efficacia giornalistica sono interessanti diverse contraddizioni che si creano stiamo parlando di un alluvione cioè dei disastri di un alluvione cosa che lo dico senza nessun cinismo ma è così è stata piuttosto frequente negli ultimi tempi nel racconto nelle informazioni che abbiamo ricevuto dai posti più diversi con i risultati più diversi ma oggi credo che sarete d'accordo con me le immagini di strade invase dal fango sono delle immagini che ci sono abbastanza più familiari ho l'impressione rispetto a diciamo altri tempi al tempo stesso quindi però a bilanciare tutto questo e a farci vivere come meno pazzesco la dimensione appunto di un alluvione per quanto lo è sempre ci sono dei numeri e delle cifre che vanno diciamo oltre qualunque abitudine in quello che viene raccontato e anzi straordinariamente sorprendenti proprio anche nell'assenza di molte immagini all'inizio veniva e viene da figurarsi ma com'è possibile che un alluvione per quanto dighe per quanto ponti uccida così tante persone un numero così grande di persone si qui non lo vedete bene ma diciamo la mappa mostra come qui ci si aderna questo è il canale con le due dighe che hanno ceduto e quello che successe quello che Repubblica qualche giorno fa definiva una cannonata bisogna immaginarsi un flusso di acqua a una velocità fortissima che attraverso il tracciato diciamo del canale porta con sé qualsiasi cosa e va a riversarsi in mare con tutte le cose che si porta dietro l'altra storia che oggi viene molto raccontata sui giornali con molto spazio sul Corriere a differenza degli altri forse anche per questo ruolo anche relazionale nel mondo del potere italiano usa delle definizioni molto larghe per capirci è questa assemblea di confindustria che oggi sul Corriere si prende le prime quattro pagine tre pagine c'era anche la pubblicità prima di arrivare alla faccenda Sbarchi che invece è di gran lunga la storia più raccontata sui giornali di oggi infine l'anniversario di cui vi parlavo oggi è un anno dalla morte di Masamini la ragazza iraniana che fu fermata un anno fa perché aveva il velo indossato scorrettamente secondo le guardie rivoluzionarie iraniane e morì nell'arco di pochi giorni dopo essere finita in coma probabilmente perché picchiata pestata ma il regime non ha mai raccontato che cosa è caduto davvero la morte di Masamini fu l'inizio di un periodo di fortissime proteste e contestazioni contro il regime iraniano soprattutto da parte delle donne ma non solo oggi è l'anniversario e quindi molti giornali se ne occupano la stampa ha una speciale prima pagina che avvolge la vera prima pagina adesso lo ritrovo devo dire quando l'ho visto ho pensato che fosse stata una scelta molto forte e originale decidere di aprire con tutta una pagina sulla stampa in realtà è una prima pagina speciale nel senso che poi c'è la vera prima pagina che parla della politica di Meloni e tutto ma questa prima pagina avvolge il giornale il manifesto è l'unico giornale che fa la vera prima pagina su questo su questo tema il vero straffato poi magari ne parleremo leggendo qualcosa anche questo giornalisticamente merita una riflessione cioè è un tipico caso è una tipica storia in cui ci verrebbe da dire guarda una cosa su cui abbiamo avuto delle attenzioni enormi è una storia di dimensione enorme come quello che è successo in Iran da lì in poi di cui nessuno ci dice più niente no? e spesso questa cosa capita che poi le cose progressivamente vengono abbandonate e non veniamo aggiornati in questo caso c'è però appunto l'attenuante che stiamo parlando di un posto da cui è difficile sapere le cose no? è difficile sapere nel momento in cui le cose non hanno più quella visibilità di quelle manifestazioni e quelle proteste di quel momento capire in che fase siamo cioè se è completamente rientrata è completamente stata repressa quella protesta e quel momento come molti commentavano già allora naturalmente apprezzandolo e facendo il tifo ma sapendo che le dimensioni dello scontro della prova di forza con il regime non avrebbero permesso grandi cose alcuni altri ci avevano investito maggiori speranze oggi appunto l'impressione è che abbiano avuto ragione i primi forse entriamo nelle notizie finita diciamo questa carrellata con guarda io starei sulla carrellata diciamo da Confindustria perché da Confindustria discendono tutte delle cose è una giornata interessante perché ci sono delle cose da dire delle cose che riguardano praticamente ogni forza politica forse con l'esclusione del Movimento 5 Stelle che mi sembra diciamo che oggi non abbia nessuna occasione di essere nel bene o nel male nelle notizie e partendo naturalmente la visibilità maggiore ce l'hanno i partiti della maggioranza e in particolare la Presidente del Consiglio la Presidente del Consiglio che oggi ho visto in ossequio alle sue note richieste mi sembra che il Libero chiami non solo il Presidente ma anche Giorgio il Premier ma quasi il Premier il Premier ha deciso di dire fra poco diranno Giorgia Meloni è un politico non lo so la maschilizzazione di qualunque cosa naturalmente diciamo le cose che riguardano Meloni e la Presidente del Consiglio sono soprattutto le cose che riguardano Lampedusa le questioni di immigrazione oggi è abbastanza impressionante vedere come in modi diversi gli esponenti di questa maggioranza cominciano a dire delle cose di sinistra cioè beh è un pezzo gli extra profitti sull'immigrazione cominciano a dire non dico di sinistra ma le stesse cose allora sul giorno c'è un titolo adesso stiamo parlando di Tajani ancora però sempre Tajani è il centrodestra eccetera non si fermano i migranti con i muri ma posizione interessante diciamo da quel punto di vista adesso suona brutto dire ve l'avevamo un po' detto da un pezzo però appunto e c'è quest'intervista a Piantedosi sul Corriere della Sera scusa stavo cercando un'altra cosa intervista straordinariamente ingessata è abbastanza chiaramente immagino non potrei sbagliarmi ma è abbastanza chiaramente un'intervista che è avvenuta per iscritto o almeno diciamo molto rivista perché è la cosa più lontana da una conversazione che vi possiate immaginare diciamo per le formulazioni devo dire che c'è anche un'intervista a Elish Line forse dove? sulla stampa sulla stampa che anche quella gli somiglia un po' come tono però l'impressione è che Elish Line parli effettivamente così diciamo quindi quella potrebbe essere più fondata nel caso dell'intervista di Piantedosi a un certo punto lui dice siamo tutti consapevoli che la situazione sull'ampedusa e l'immigrazione non possa essere affrontata se non con soluzioni stabili e durature anche costo di avere momenti difficili come questo sono quelle a cui stiamo lavorando e che sono certo ci porteranno al più presto a risultati meno urlati ma più solidi è abbastanza impressionante in questa intervista a Piantedosi poi siamo abituati a tutto la fermezza e sicurezza con cui Piantedosi dice adesso la risolviamo no? cioè stiamo parlando del casino più grosso del pianeta dopo il cambiamento globale ovvero diciamo come i paesi di tutto il mondo affrontano i flussi migratori cosiddetti diciamo in un posto del mondo dove questo casino è particolarmente sentito e rilevante se lo vogliamo chiamare casino ma diciamo inevitabilmente un po' lo è e Piantedosi dice adesso abbiamo tutto un piano delle idee intanto non bisogna fare delle cose precipitose soluzioni eccetera anzi nel breve è normale che succedano un po' di guai ma abbiamo appunto tutti dei piani sul lungo eccetera ma hai notato cosa dice la domanda immediatamente successiva cioè lui dice servono soluzioni stabili e durature e la giornalista Firenze Sarzanini gli dice la PMR Giorgia Meloni annuncia misure straordinarie e urgenti che è esattamente il contrario di stabile e durature stabile e straordinario e lui dice si si servono anche quelle comunque e poi e poi dice ancora per il tema degli sbarchi come detto stiamo lavorando su una prospettiva articolata che vada finalmente alla radice del fenomeno allora io voglio vedere come cioè cosa ha in testa per andare alla radice del fenomeno degli sbarchi cioè non vengono più l'Africa diventa un continente pacificato e ricco non lo so mi sembra l'unico modo di arrivare alla radice degli sbarchi posso dire niente nel senso l'obiettivo di questa intervista è far passare questa giornata dicendo qualcosa e siccome è la cosa più innocua possibile questa è la cosa più innocua possibile ed è un pezzo di un problema nazionale diciamo culturale con l'immigrazione che che per noi è una cosa un problema che ci viene descritto raccontato dalla politica e dalla stampa molto diversa da quello che effettivamente quindi è come se noi ci presentiamo a una partita di calcio pretendendo di giocare la palla con le mani è come se fosse la palla a volo e ci arrabbiamo quando l'arbitro continua a fischiare fallo perché non si può prendere la palla con le mani noi siamo convinti di giocare con delle altre regole e un pezzo di questa storia è venuta fuori ieri quando Giorgia Meloni ha diffuso in orario diciamo compatibile perché poi finisse per essere il principale titolo sui telegiornali un video di 6 minuti 7 minuti per affrontare il tema la situazione cosa sta succedendo un video anche in cui lei parla con un tono molto grave che pone anche qualche questione giornalistica nel senso che da una parte la Presidente del Consiglio dice delle cose su un tema così importante è una notizia bisogna dire quello che dice e raccontarlo dall'altra parte il lavoro dei giornali non è soltanto ripetere quello che dice il Ministro alla Presidente ma è anche fornire del contesto attorno a quelle informazioni ed è incredibile ed ci mette in una certa difficoltà la quantità di informazioni proprio tecnicamente false che dice la Presidente del Consiglio nel raccontare quello che sta facendo il fenomeno il problema qualsiasi siano le posizioni di ciascuno sull'immigrazione anche se il nostro desiderio sia non vedere mai più nessuno sbarcare in Italia in qualsiasi modo questo non rende vero diciamo o per esempio frasi come l'Europa non può accogliere questa massa enorme di persone la situazione è difficilissima la pressione migratore in Italia è diventata insostenibile ora il centro di accoglienza di Lampedusa e parliamo di Lampedusa ha 400 posti è chiaro che se tu fai un centro che ha 400 posti ne bastano 500 perché diventi insostenibile e i numeri di cui stiamo parlando sono certamente numeri molto grandi rispetto al passato che ci dicono che sta accadendo una cosa significativa ma qualche decino di migliaia di persone in un paese che ha 59 milioni di abitanti che è la settima potenza industriale del mondo non è niente che non sia gestibile a costo però di attrezzarti perché se il centro di accoglienza ha 400 posti certo che diventa una crisi umanitaria istantaneamente il sospetto del governo è che ci sia una strategia per destabilizzare la maggioranza c'è quindi un complotto internazionale che parte dall'Africa allo scopo di togliere il posto a piante d'osi posso dirti una cosa su questo a proposito di quello che dicevamo quello che hai detto non è un virgolettato di meloni è una parte dell'articolo del Corriere della Sera che dice seriamente il sospetto del governo è che ci sia una strategia per destabilizzare la maggioranza cioè arrivano 5.000 persone dall'Africa e questo è per destabilizzare la maggioranza ma lo trovo anche diciamo io mi offenderei fosse un migrante dei 5.000 questa è la sproporzione ma qualche giorno fa il giornale titolava che era un complotto del PD ma il giornale ma guarda ti dicono così tu prima citavi l'intervista a Tajani sul giorno continuo continuo l'articolo scusa vai come è possibile che in sei giorni siano approdati sulle coste italiane 291 barchini dalla Tunisia ma cosa vuol dire che Schlein gli ha dato i barchini Tajani ha anche un'intervista oggi a Libero in cui dice a un certo punto i paesi dell'Europa da soli non possono farcela è troppo ampio il fenomeno credo che Francia e Germania inizino a comprendere la vastità del problema perché nel nostro racconto nazionale l'Italia sta scoppiando di migranti mentre gli altri paesi non li vogliono non accettano le redistribuzioni sono insensibili rispetto alle nostre difficoltà e quindi la soluzione passa anche attraverso convincere Francia e Germania ad alleggerire parte del carico che sopporta l'Italia questa cosa non esiste nella realtà Francia e Germania hanno molti più richiedenti asilo di quelli che abbiamo noi in proporzione alla popolazione in proporzione alle dimensioni ma parecchi di più la Germania soprattutto e quindi quando noi andiamo dalla Germania a dire prendetevene un po' anche voi questi non capiscono di cosa stiamo parlando oggettivamente e quindi ripeto al di là di come uno la pensi sull'immigrazione ci possono essere delle posizioni molto conservatrici o molto restrittive però devono accettare alcuni elementi di realtà per esempio il fatto che i rapporti che il governo ha intavolato con la Tunisia rispetto al dare dei soldi alla Tunisia a un peraltro un dittatore piuttosto autocratico perché lui così fermi i migranti è una cosa che non ha funzionato in Libia per esempio l'abbiamo già visto noi diamo dei soldi alla Libia motovedette soldi perché la Libia non faccia partire i migranti ed è piuttosto acclarato ormai che noi diamo dei soldi ai trafficanti di esseri umani cioè questi soldi queste motovedette li usano poi quelle persone che poi organizzano gli sbarchi non funziona non si tratta di essere diciamo di destra o di sinistra non funziona se posso l'avrete già fatto in molti eccetera vedetelo il film di Garrone non per ragioni sentimentali o emotive ormai che pure ci possono essere o di commozione di alcune cose ma perché si capiscono delle cose poi è un film una fiction ma si capiscono delle cose e tra l'altro appunto rispetto anche a quello che dicevi adesso tutte queste cose che dice Piantedosi appunto in straordinaria contraddizione con qualunque altra logica del muro del blocco delle soluzioni appunto così immediate della repressione stanno tutto dentro quel gran calverone di cose che nessuno poi ti andrà a chiedere puoi dire qualunque cosa cioè Piantedosi in questo momento sta dicendo ci porteranno al più presto a risultati meno urlati ma più solidi quando non ci sarà stato nessun risultato solido prendete una scadenza qualunque fra un anno vogliamo dare un po' di tempo a Piantedosi vogliamo dargliene due no? in campagna elettorale non dicevano ci vorrà del tempo appunto ma nessuno andrà a chiedere in questo c'è una cosa divertente oggi è circolato abbastanza sui social network diciamo in fiera abbiamo maramaldeggiato in parecchi una prima pagina di Libero dell'anno scorso poco dopo l'elezione di Meloni prova a vedere se si riesca a farla vedere da qua speriamo che non ti arrivino delle notifiche imbarazzanti allora intanto è bellissimo tantam tra i migranti cioè i migranti parlano col tantam diciamo delle chat perché sono migranti diciamo delle chat dei migranti no i migranti parlano col tantam e poi comunque hanno saputo i migranti che c'è la Meloni e si sono passati la voce e le battute molto inventive che sono circolate intorno a questa prima pagina sono state molto divertenti nei giorni scorsi diciamo era naturalmente surreale ed è buffo che qualcuno vada appunto a chiedere conto di quella prima pagina è interessante confrontarla con la prima pagina di Libero di oggi cioè il tantam non ha funzionato abbastanza e quindi Meloni sta dicendo o forse non avete letto la prima pagina di Libero diciamo proviamo a dirvelo più esplicitamente e vediamo se funziona no intervento del governo è dire ai migranti non venite in Italia ci sono due cose su questo tema piccoline anche su come si occupano i giornali interessanti ci sono soprattutto due video all'interno di questa che è una storia gigantesca sia le migrazioni che è quello che sta accadendo in questi giorni sono due video che sono circolati molto sul web uno dura davvero 4-5 secondi forse l'avete visto è il video qui lo vedete in un fermo immagine di questo carabiniere che ha in braccio una bambina sbarcata con la madre Lampedusa la madre è distante probabilmente sta facendo qualcosa si vede il carabiniere che gioca con la bambina le fa un buffetto ma nel giro di davvero 3 secondi arriva la madre che se la riprende lo ringrazia e vanno per la sua strada in realtà non ringrazia è un po' scortese ho visto che qualche giornale c'è un sorriso c'è un sorriso di circostanza noi non conosciamo niente del contesto magari si erano parlati fino a un secondo non abbiamo idea magari se la madre di una bambina che è appena arrivata a Lampedusa diciamo non è la tua priorità di ringraziare la scena in sé dura davvero 3 secondi è anche una scena tenera però voglio dire è un signore che tiene in braccio una bambina molto piccola c'è una certa difficoltà a chiunque di noi diciamo a meno di non essere veramente degli esseri gretti ti viene da giocare con la bambina che è in braccio per cui 2 secondi e quanto diciamo si ricama su questa foto come il simbolo c'è un editoriale su Repubblica questa è l'Italia che ci piace perché cosa doveva fare doveva picchiarla questa bambina ha fatto veramente quello che avrebbe fatto chiunque il meglio è il corriere che ha trovato il carabiniere lo ha intervistato e lui dice diciamo delle cose piuttosto lui dice ho fatto la cosa più normale di questo mondo si stupisce anche di questo interesse detto questo alla fine lancia un appello lui dice io sono single ma certi stimoli paterni si cominciano a far sentire se qualcuno vuole raccogliere avendo visto in questi 3 secondi secondo me raccoglierebbero in parecchi scusa un bell'uomo che vuole bene ai bambini appunto io ci farei un investimento poi c'è un altro video che è un video che è stato girato in una piazza a Lampedusa c'era una festa di paese come ci capita spesso in estate e si vedono un gruppo di migranti che insieme alle altre persone essendo quella una festa essendoci della musica ballano uno poi può anche diciamo immaginare lo stato d'animo di chi è sbarcato a Lampedusa è vivo è arrivato in Italia qualsiasi cosa gli accada comunque molto meglio di come poteva andare fino a pochi giorni prima sono in piazza c'è della musica e ballano non c'è niente di minimamente significativo in questa cosa i giornali di destra ne parlano senza poter dire quello che vogliono implicare cioè se non nei titoli gli africani ballano sull'isola e beh cioè la risposta l'unica risposta può essere il giornale ci fa un pezzo Lampedusa dancing non c'è niente da dire se non solleticare diciamo in chi legge questi giornali il commento eh certo eh vedi ballano pure non so si aspetta con tutto un elemento di contestazione adesso non so quanto fondato perché io non l'ho letto da nessuna parte ma magari che qualcuno ha detto ecco la vera integrazione esatto ma chi l'ha detto che questo è il fatto che abbiano andato a ballare lì a Lampedusa su Bob Marley a quanto ho letto per chi non ho visto il video appunto sia stato riportato come un elemento di integrazione guardate è tutto risolto diciamo basta mettere Bob Marley che chiaramente sarebbe un po' forzata come interpretazione ma c'è qualche giornale di destra sì che vuole criticare quella interpretazione e nel frattempo c'è un certo protagonismo anche della seconda forza di governo di diciamo rimbalzo su tutto questo perché ci sono stati un po' di episodi in questi giorni in questo momento di crisi in cui appunto i giornali hanno molto enfatizzato ma ci sono state delle posizioni diverse cioè questo che raccontavamo come uno spostamento da parte di alcuni quello che ho detto scherzando delle posizioni di sinistra ma insomma posizioni anche semplicemente un pochino più ragionevoli e equilibrate sulle questioni dell'immigrazione hanno lasciato al loro posto di prima un sacco di altri che continuano a dire invece a differenza di italiani ci vogliono i muri blocchi navali eccetera eccetera in questi giorni appunto ci sono state alcune dichiarazioni che sono state interpretate come delle prese di distanza o alcune diciamo lo sono state da queste linee o anche non soltanto dalle linee ragionevoli ma anche molto dalle politiche di diplomazia cosiddette di Meloni Francesco ne ha parlato spesso a Morning la mattina dei viaggi di Meloni in Tunisia eccetera eccetera e quindi appunto la Lega Salvini persone della Lega in questo momento stanno trovando una loro visibilità come contestatori e critici sia di quello che il governo ha fatto fino adesso sia di altre cose diciamo più io direi più ragionevoli diciamo che il governo sostiene che farà o che intende fare d'ora in poi Calderoli che in tutto questo è ministro insomma non è un personaggio di poco conto ha detto quando Salvini era ministro degli interni tutto ciò non si verificava a buon intenditor poche parole quindi non è nemmeno una cosa velata c'è una accusa direta peraltro il ministro degli interni attuali Piantedosi è l'ex capo di gabinetto di Matteo Salvini è un ministro lì in quota Lega non in quota Fratelli d'Italia però questa è una di quelle situazioni in cui probabilmente diciamo la concezione la geometria ci aiuta per certi versi a capire la politica si è raccontato molto come la presidenza del consiglio Meloni una volta diventata la presidenza del consiglio si è diventata un po' più moderata quantomeno nelle parole nei toni nelle posizioni la sua posizione sull'Ucraina quindi questo essere distante da quello che era per certi versi Meloni all'opposizione questo rapporto con Draghi di cui si è molto detto all'inizio in termini diciamo banali geometrici semplici ma per capirci Meloni da destra si sarebbe spostata un po' al centro aprendo quindi uno spazio a destra in cui la Lega si sta molto tuffando nella speranza di così poter recuperare del terreno perché la storia della vittoria delle ultime elezioni della destra è che Fratelli d'Italia ha preso il 30% e la Lega dal 35% delle europee è precipitata quindi la Lega ha vinto è arrivata alle elezioni ma con un risultato molto negativo ci sono le elezioni europee che si avvicinano per cui forse queste parole di Calderoli questo malumore della Lega che attacca la presidenza del Consiglio sull'immigrazione vanno lette forse anche insieme al fatto che per esempio sul palco di Ponti dalla reunion annuale dei leghisti parlerà quest'anno Marine Le Pen e quindi diciamo tutta una idea di destra pragmatica la destra della Lega del Nord vicina ai commercianti federalista ha perso piuttosto piede Marine Le Pen è la più centralista che ci sia ed è la destra quella lì la destra vera la destra non frutto di espressioni territoriali come è stata a lungo la Lega che metteva insieme cose molto diverse tra loro c'è un tentativo da parte della Lega di Salvini di recuperare voti attaccando Meloni da destra e questa è la minaccia da cui oggi Meloni deve più difendersi molto più che la minaccia dell'opposizione cosa diciamo molto raccontata e promossa da una pagina intera di Repubblica oggi su tutti i giornali si parla di Pontida e appunto dell'appuntamento tradizionale della Lega a Pontida e si racconta in particolare della presenza di Marine Le Pen a Pontida insieme a Salvini e quindi diciamo già questo come elemento di maggiori attenzioni a destra di Salvini Repubblica racconta un altro contatto appunto che guarda molto a destra di Salvini ma intanto da Repubblica vi leggo brevissimamente appunto qual è il contesto e l'analisi sui progetti su Pontida un avvio di campagna elettorale per le europee condito da attacchi durissimi a Bruxelles Matteo Salvini e Marine Le Pen insieme domani sul palco di Pontida la virata della Lega verso la destra estrema è già conclamata lontanissima per il Carroccio come diceva Francesco la vetta del 34% raggiunto all'elezione del 2019 ci cerca di scongiurare il rischio di non riuscire a toccare neanche il 10% a giugno 2024 il segretario del Carroccio svestiti i panni di vice premier da oggi sul pratone che da 30 anni ospita l'appuntamento annuale caro ai leghisti proverà a scaldare di nuovo il suo popolo intorno a questo breve racconto appunto di quello che dovrebbe succedere a Pontida c'è una pagina intera di Tony Amastroboni storica diciamo corrispondente dalla Germania di Repubblica desperta delle cose tedesche che racconta dei contatti come dice il titolo di Salvini con la leader dell'ultra destra tedesca la leader dell'AFD credo che si dica in tedesco Alice Weidel una data ancora non c'è ma il dado è tratto ed è un altro segnale inequivocabile che il leader della Lega intende fare concorrenza a Giorgia Meloni da destra anzitutto ricompattando la galassia nera scusate la galassia nera in Europa questo diciamo parte Lega io volevo aggiungere un pezzetto meno raccontato è molto meno importante ma lo scontro tra fratelli d'Italia e Lega è arrivato a insinuarsi anche nei posti che uno meno si immagina esposti e volevo anche un tuo parere in quanto diciamo anche parte in causa se volendo hai saputo della scissione del gruppo parlamentare dei tifosi del Napoli ho letto vedete che il direttore ti fa per il Napoli ho letto ho letto stamattina c'è un articolo involontariamente piuttosto divertente su Corriere mi sembra qui fate finta che tutto questo sia normale tra parlamentari ci si riunisce in gruppi di tifosi che superano le differenze politiche per cui c'è il Roma Club Montecitorio l'Inter Club Parlamento lo scopo di questi gruppi di tifosi io non so se si vedono insieme per vedere le partite come capito i gruppi di tifosi di certo c'è tutto un grande mercanteggiamento di biglietti se fu raccontato quando Ignazio e la Russa era il punto di riferimento dei tifosi dell'Inter per vedere la finale per avere i biglietti eccetera e di solito dato che come dice il giornale del Corriere in Parlamento esiste una regola aurea quando c'è la fede calcistica in comune le divisioni politiche svaniscono del Milan non quelle di destra e quelle di sinistra su questo diciamo io propongo una riflessione mi sono chiesto questa cosa qua no che sembra quasi bella no quando ci sono le cose del calcio poi tutti insomma le divisioni ci superano lo sport unisce ma lo è davvero cioè che addirittura deve diventare deve unire di più il tifo del Napoli anche perché questi nel frattempo quando non guardano le partite si accusano di ogni cosa più terribile ladri maledetti assassini volete il male dell'Italia però tipo per la Roma è un così mio grande ci guardiamo comunque le partite insieme io e non so e quando segna il Napoli io e Goebbels ci abbracciamo quest'anti comunque c'è stata questa scissione la cosa è che non c'è una scissione tra i tifosi del Napoli di destra e i tifosi del Napoli di sinistra sono tutti di destra ma è tutta interna alla destra e di nuovo uno scontro tra fratelli d'Italia e la Lega perché sembra che dovevano eleggere il nuovo presidente del Napoli Club perché chi era il precedente diciamo che se n'è andato e che si era molto manifestato come quello di Quagliarello forse non mi ricordo c'è scritto qui c'è scritto a un certo punto comunque si è dimesso Gaetano Quagliarello Gaetano Quagliarello diciamo che si era molto celebrato come presidente del Napoli mi ricordo un po' sindacionalista peraltro eminentissimo e quindi c'era da leggerne uno nuovo e hanno organizzato con le solite questioni delle complicazioni delle leggi elettorali italiane diciamo hanno organizzato l'elezione del nuovo presidente del Napoli il giorno in cui c'era un importante appuntamento di fratelli d'Italia esatto l'assemblea nazionale forse e quindi il leghista che ha vinto questa elezione che si chiama Gianluca Cantalamessa ed è un leghista di portici anche questa cosa se volete diciamo ulteriormente affascinante un leghista della provincia di Napoli ha vinto queste elezioni battendo il suo sfidante Gerolamo Gimmi Cangiano deputato di Fratelli d'Italia in tutto questo dettaglio che non ci facciamo mancare salito alla ribalta per essere anche il nuovo compagno di Valeria Marini entra niente e lui dice lui dice questa cosa è ulteriormente divertente io tifo molto per il Napoli ovviamente ma se devo scegliere tra il Napoli e la mia Giorgia io scelgo lei allora non fai il presidente e allora scusa se hai delle priorità maggiori dunque hanno fatto una scissione e quindi adesso c'è il gruppo dei reghisti e il gruppo dei melonisti quelli di sinistra quindi devono scegliere tra l'uno e gli altri esatto chi ha che ha Valeria Marini non mi ricordo più i fratelli d'Italia spostandoci ancora brevemente all'interno della maggioranza un po' ci siamo già stati parlando di Tajani e delle cose di Tajani intorno a Forza Italia tra l'altro Tajani che ha giudicato dalle interviste e gli interventi scusami ma tu dove ti iscriveresti tra i due gruppi? io dove c'è Valeria Marini? dove c'è Valeria Marini? a quel punto a quel punto dobbiamo farla con rispetto parlando sì Tajani diciamo è venuto in mente se vi capita guardate c'era un video divertente di un confronto parlamentare fra Tajani e Ivan Scalfarotto dei giorni scorsi in cui Tajani ha fatto una severissima lezione diciamo parentemente mettendo molto in imbarazzo e molto in difficoltà Scalfarotto a proposito di un intervento una richiesta di Scalfarotto su quello che devono fare gli italiani diciamo che sono nelle istituzioni europee eccetera e Tajani gli ha detto forse Scalfarotto è lontano da troppo tempo dal ministero degli esteri dove Scalfarotto ha fatto il sottosegretario e non si ricorda che anche se sono italiani i rappresentanti e i dirigenti delle istituzioni europee in quel ruolo rappresentano l'Europa non l'Italia non possono rappresentare far prevalere gli interessi dell'Italia se sono giorni che se la pigliano col povero Gentiloni è quello che gli ha detto Ivan Scalfarotto diciamo che l'ha fatto finire ha preso il microfono e ha detto ma avete appena smesso di dire a Gentiloni che deve fare gli interessi dell'Italia che non sta facendo abbastanza gli interessi dell'Italia era abbastanza divertente però la cosa diciamo negli ambiti Forza Italia più vistosa sui giornali di oggi è una piccola e puntuale e non è di esattamente un esponente di Forza Italia ma è di Marina Berlusconi ed è molto ripresa e così ritorniamo diciamo finalmente alla famosa Assemblea di Confindustria appunto dove c'era Marina dove c'erano praticamente tutti a questa Assemblea di Confindustria c'erano tantissimi ministri e tantissimi industriali importanti e sono citati tantissimi nomi e anche l'editore del Corriere della Sera che è citato dal Corriere della Sera e in un breve scambio con i giornalisti Marina Berlusconi ha detto una cosa appunto molto breve e laconica ma critica sull'ipotesi della tassazione degli extra profitti cosiddetta diciamo questione di cui si è molto parlato e che ha generato anche dei subbugli veri e propri nei mercati finanziari nelle settimane scorse e questa cosa benché sia stata credo veramente una roba passeggera forse addirittura per strada di Marina Berlusconi oggi è abbastanza citata come un ulteriore diciamo distanziamento e posizionamento all'interno delle così tensioni e non grandissime sintonie all'interno della maggioranza tensioni e non grandissime sintonie all'interno della maggioranza che a questo punto potrebbero far pensare che dunque l'opposizione gliene sta cantando allora l'opposizione non gliene sta cantando tantissimo e soprattutto oggi devo dire senza infierire e non è forse completamente colpa sua però la leader dell'opposizione Elislein è protagonista sui giornali per una grandissima attenzione a una cosa singola che l'è capitata ma letta come piuttosto sintomatica cioè il suo essere stata ospite alla trasmissione di Lilly Gruber poche sere fa l'altro ieri sera mi sembra erano Elislein Lilly Gruber e il direttore della stampa Massimo Giannini quindi non un contesto diciamo che uno possa definire in partenza ostile alla segretaria del PD no a un segretario del PD chiunque sia sì no no ma appunto ho visto Lilly Gruber e Giannini fare lo stesso trattamento anche ad altri ed è stata molto messa in difficoltà molto incalzata in particolare sulla sua scarsa capacità di comunicazione di dare risposte chiare di far capire che cosa vuole fare e che cosa non vuole fare su cui per quello facevo prima quella battuta sul fatto che l'intervista a Elislein di oggi appunto anche quella sembra straordinariamente fumosa fammi ricordare dove è sulla stampa pagina 9 ed è abbastanza rappresentativa di questa questione a un certo punto è un'intervista di Paolo Varetto sulla stampa e a un certo punto per farvi un esempio viene chiesta Schlein avete annunciato grandi iniziative per l'autunno a cosa state pensando? Schlein con l'opportunità di dire delle cose da segretario del maggiore partito di opposizione segretario tra l'altro abbastanza ormai apertamente accusata anche diciamo con tutte le simpatie che alcuni possano avere di non essere particolarmente visibile chiara diciamo in un progetto di opposizione che approfitti addirittura delle difficoltà della maggioranza in questo contesto quello che risponde Schlein è porteremo avanti le nostre proposte su salute scuola clima e imprese c'è tanta voglia di tornare nelle piazze perché vogliamo chiedere di più vogliamo risposte prima che sia troppo tardi dialogheremo con le altre forze di opposizione su temi come il salario minimo la necessità di aumentare il fondo sanitario nazionale l'accesso all'istruzione per le fasce più fragili per questo organizzeremo una grande manifestazione di piazza a Roma per fine ottobre non vogliamo aspettare di vedere in Parlamento una legge senza le nostre priorità che è diciamo la stessa risposta che poteva dare non lo so Pierluigi Bersani a qualunque altra domanda otto anni fa o non mi ricordo più appunto quando eravamo a Pierluigi Bersani o in qualunque altro contesto ed è tutto un po' così è quello che è successo l'altra sera da Lily Gruber lo spiega meglio il Corriere mi pare anche in ragione diciamo naturalmente delle intenzioni promozionali del Corriere sulle attività del gruppo quello che è successo da Lily Gruber è successo alla 7 ovvero la rete televisiva dello stesso editore del Corriere a un certo punto la conduttrice ha chiesto a Schlein la interrompo subito lei oggi ha detto parlando di Lampedusa che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo ma chi la capisce se parla così la leader PD ha avuto un trasalimento e poi ha spiegato che cosa intendesse vuol dire che pagare i dittatori per tentare di bloccare i flussi non solo viola i diritti delle persone ma non blocca nemmeno i flussi quindi Gruber e Giannini hanno chiesto a Schlein se andrà avanti sulla riduzione delle spese militari ce ne occuperemo quando saremo al governo ha glissato la segretaria ma Giannini non ha voluto mollare l'argomento lei non dice una parola chiara io penso che questo sia il vero limite della sua segreteria non è che è troppo di sinistra è che non è chiara su alcune questioni fondamentali altra domanda altro siparietto viene chiesto a Schlein se sarà capolista in tutte le circoscrizioni alle europee e lei risponde l'argomento non è all'ordine del giorno no non ci risponde è stata la replica corale di Gruber e Giannini e poi c'è stata diciamo una roba finale ancora sull'armocromia che forse diciamo poteva dare anche l'occasione a Schlein di dire sapete che siete una manica di imbecilli su sta roba dell'armocromia e ci ha provato per un attimo poi si è un po' incartato sì ed è finita a dire in realtà la camicia l'ho pagato 80 euro cioè è sceso su quel terreno a commentare diciamo quanto costano i vestiti che indossa e quindi sì e tutti i giornali del centro-destra ci vanno a nozze oggi perché dicono appunto persino Gruber e Giannini che non sono dei nostri appunto hanno notato e sottolineato la fragilità e la debolezza della capacità di comunicazione di Schlein ma appunto questa cosa è abbastanza ripresa in giro commentata persino da da Aldo Grasso diciamo storico critico televisivo con la sua rubrica nella penultima pagina del Corriere della Sera che a margine di un pezzo che parla di altro della trasmissione nei formigli dice dall'armocromista Elish Line mi separano chilometri di distanza pensieri, parole, opere omissioni ma l'accanimento con cui è stata trattata da Massimo Giannini e Lily Gruber mi ha quasi mosso a tenerezza facile prendersela con l'inadeguatezza che è veramente la cosa più perfida che potesse scrivere no? cioè ti difendo perché appunto sei proprio inadeguata e vabbè diciamo potete diciamo possiamo prenderla come un singolo episodio ma è abbastanza rappresentativo di difficoltà generali a trovare un proprio ruolo del maggiore partito di opposizione in questo momento voltiamo decisamente pagina per citare il titolo di cose perché se aspetti sulla politica tantissimo sarà che mancavamo da un pezzo nostalgia e io ho avuto sì delle tentazioni ma la prossima volta già sono stufi e ci sono un sacco di cose di esteri ci sono anche un sacco di cose italiane dove vuoi andare? guarda andrei di esteri e ti lascerei come sai diciamo il campo di tua maggiore competenza Hunter Biden ah Hunter Biden sai che non mi ero segnato nulla su Hunter Biden basta saltiamolo freghiamoci in questi Stati Uniti per una volta si può anche fare la storia è una storia che riguarda il il secondo figlio di Joe Biden Hunter Biden che ha avuto una vita particolarmente complicata non solo per le ragioni familiari che condivide con suo padre ha perso due dei suoi tre fratelli uno quando era molto piccolo sua sorella nell'incidente stradale che uccise anche la prima moglie di Biden ha perso un altro fratello che era il primo genito della famiglia Bob Biden nel 2015 per un tumore al cervello e in tutto questo in questa vita così complessa diciamo quasi da sopravvissuto ha avuto problemi di droga ha avuto in generale un percorso non particolarmente chiaro nelle sue cose professionali ha avuto diverse compagne una vita piuttosto complessa quando suo padre è diventato vicepresidente degli Stati Uniti Hunter Biden ha cominciato a lavorare a ottenere dei lavori evidentemente per il fatto che fosse il figlio del vicepresidente cioè senza avere nessuna particolare competenza è finito nel consiglio di amministrazione di un'azienda energetica ucraina è finito a fare degli affari con delle aziende cinesi aziende che evidentemente cercavano il suo coinvolgimento sperando quanto meno come minimo che lui potesse garantire una qualche forma di accesso al padre che invece era molto potente o addirittura dei favori diretti dal padre ora non ci sono prove che sia mai accaduto qualcosa del genere cioè che Joe Biden nei suoi comportamenti in quello che è accaduto poi a queste aziende abbia fatto pressione abbia fatto qualsiasi cosa per favorire le aziende o il figlio certamente non abbiamo prove nemmeno del fatto che Biden possa aver detto a un certo punto ad Hunter Biden senti tagliala lì chiudila lì perché evidentemente era una cosa come minimo scostumata e inopportuna la cosa che sta succedendo è che Hunter Biden nel corso di questa sua vita complicata ha accumulato delle accuse per reati non particolarmente gravi rispetto a quelli che possono esserci qui c'è possesso illegale di un'arma cessione di sostanze stupefacenti per cui comunque ha delle cause legali che stanno andando in corso che però non sono delle normali cause legali per un possesso illecito di un'arma visto che lui è il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti al centro di questo caso così grosso le elezioni si tengono l'anno prossimo durante queste udienze sta peraltro venendo fuori come probabilmente anche lo stesso presidente Biden durante la scorsa campagna elettorale ha detto qualche bugia per coprire suo figlio per coprire quello che è accaduto perché non si ricordava non si sa ma per esempio è emerso che in qualche circostanza Hunter Biden parlando con questi ucraini o con questi cinesi con cui lavorava ha detto aspettate che chiamo papà e l'ha chiamato papà effettivamente e quindi diciamo di nuovo non c'è modo di dire Biden ha fatto gli affari di queste aziende però probabilmente Biden è effettivamente ha detto delle cose non vere su questo fronte motivo per cui i repubblicani sono partiti con una richiesta di impeachment che potrebbe anche partire anche se è garantito come accade anche per Trump e per Clinton che non vada da nessuna parte perché è impossibile praticamente per i numeri che richiede rimuovere un presidente con l'impeachment ma questo caso monterà sicuramente nei prossimi mesi ancora di più anche perché il processo di Hunter Biden prosegue l'impeachment magari andrà avanti andrà avanti la campagna elettorale finirà per essere inevitabilmente uno dei protagonisti dei prossimi mesi senti ti chiedo un parere su una cosa diciamo lo so che è il domandone quindi nei giorni scorsi è venuto alla luce diciamo prepotentemente non venuto alla luce ma diciamo è emerso più visibilmente una diffidenza nei confronti della candidatura di Biden alle presidenziali e ti lascio anche raccontare meglio appunto da parte di chi e perché è rilevante è possibile che succeda qualcosa lì? tutto è sempre possibile diciamo nel senso che poi le cose a volte succedono e ci stupiscono Biden è il presidente uscente di norma i presidenti si ricandidano è successo quasi sempre soprattutto dall'ultimo secolo in poi Biden è un presidente uscente che può anche vantare una serie di risultati che poi ripeto possono essere più o meno graditi dal popolo americano però ha fatto il presidente gli Stati Uniti hanno un'economia che va molto bene la disoccupazione è quasi inesistente l'inflazione è stata portata sotto controllo insomma lui può dire ho fatto delle cose valutatemi per le cose che ho fatto tant'è che la principale obiezione che gli americani hanno rispetto a Biden oggi non riguarda tanto le cose che ha fatto non ha fatto bensì la sua età Biden ha 80 anni e ne compie 81 a novembre che già oggi il più anziano presidente di sempre dovesse essere rieletto concluderebbe il suo secondo mandato a 86-87 anni ora in che condizioni di salute è? da una parte c'è quello che dicono i medici che lo visitano e che diffondono i bollettini medici dei cartelle crini che dicono che Biden è in perfette condizioni di salute per essere una persona di 80 anni sappiamo che è in ottima forma sappiamo che fa sport perché lo vediamo andare in bici eccetera la cosa paradossale è che il suo sfidante invece in evidenti diciamo condizioni di salute non altrettanto cioè una persona che ha evidentemente un principio di obesità come minimo che si vanta di non aver mai fatto sport parlo di Trump che non è molto più giovane di lui però Trump proietta una sensazione di grande energia col suo fisico col suo corpo col modo in cui si comporta mentre Joe Biden è evidentemente molto invecchiato e proietta una grande immagine di fragilità si muove molto lentamente ha questi occhi diventati ormai sottilissimi la voce molto flebile in campagna elettorale inciamperà una montagna di volte inciampa cade poi peraltro Biden è notoriamente balbuziente diciamo fin da quando era bambino poi riuscì a superare questa balbuzia è diventato un pezzo importante della sua storia in questa fase della sua vita la balbuzia sta molto rivenendo fuori per cui Biden balvetta spesso non è una questione legata all'età perché lo è sempre stato ma l'età probabilmente lo rende meno in grado di controllare quelle circostanze un'altra storia nella storia se volete sapete l'immagine iconica del presidente che sale le scale dell'Air Force One e poi si gira e salute giornalisti è una immagine classica della presidenza americana i giornalisti americani hanno cominciato a notare che Biden da qualche tempo non prende più la scala lunga ma c'è una scaletta più piccola che si può utilizzare sull'Air Force One di solito si utilizza quando il presidente arriva non so in Iraq cioè in posti pericolosi e loro lo fanno andare da una scaletta più breve Biden non fa più la scala lunga perché aumentano i rischi di inciampare e l'inciampo del presidente diventa un video che fa il giro del mondo in tutto questo le persone dicono Biden è troppo anziano anche tra i democratici una grande maggioranza dice Biden è troppo anziano per fare il presidente è successo qualche settimana fa che per due volte un altro politico americano repubblicano peraltro che si chiama Mitch McConnell è il più importante dei senatori repubblicani al congresso 86 anni credo c'è un problema diciamo di gerontocrazia nella politica americana per due volte durante una conferenza stampa a freeze sì ha fatto Andreotti avete presente Andreotti presidente quella cosa lì cioè gli fanno una domanda e lui rimane totalmente paralizzato con lo sguardo vitreo finché non lo portano via ora questa persona ha avuto una brutta caduta in casa ha sbattuto la testa qualche mese fa per cui quello che poi hanno detto i medici dopo sono degli strascichi di questo trauma cranico non ci sono dei problemi neurologici però al di là di far parlare molto del tema dell'età dei politici americani che coinvolge Biden anche se questa cosa non è capitata a lui immaginate se una cosa del genere capiti non a un senatore repubblicano di opposizione per quanto importante ma che capiti a Biden presidente degli Stati Uniti conferenza stampa del G8 del G20 accanto a lui ci sono i leader mondiali c'è Putin un contesto di grande gravità discorso sullo stato dell'unione Biden si incanta per 30 secondi può capitare all'età che ha Biden niente si può escludere rispetto alle cose che possono capitargli ma se quella cosa capita al presidente degli Stati Uniti uno si può immaginare mercati finanziari che crollano nemici dell'America che vedono l'America senza una guida salda senza un presidente che può prendere delle decisioni i timori legati all'età di Biden insomma sono molto fondati e molto giustificati solo che non è che c'è un partito nel sistema americano che può decidere chi si candida alle elezioni chiunque vuole farlo lo fa e eventualmente si fanno le primarie o meglio si fanno comunque le primarie e nessuno vuole sfidare Biden tra quelli che potrebbero ambire la presidenza perché non vogliono essere quelli che spaccano il partito che contestano un presidente che comunque è ben voluto dal partito pensano che sia anziano ma non pensano che debba che sia un problema e quindi Biden è senza avversari a queste primarie che vincerà evidentemente l'unico che può decidere di non candidarlo è lui stesso ora c'è da una parte il caso Hunter di cui vi parlavo un attimo fa che sta facendo venire fuori un suo ruolo forse un po' più grave rispetto a quello che si pensava è uscito un editoriale qualche giorno fa sul Washington Post di questo editorialista che si chiama David Ignatius che è noto per essere oggi la stampa di destra lo racconta come la voce del deep state americano addirittura è un giornalista molto informato molto influente più di una volta ha raccontato delle cose che poi ci sono verificate mostrando le vere delle fonti piuttosto affidabili ed è molto vicino a Biden Biden dice spesso che lui e il suo editorialista preferito hanno un rapporto personale e quindi lui con tutta questa autorevolezza ha fatto questo pezzo intitolato Biden non deve candidarsi Biden deve ritirarsi ed è l'argomento più pro Biden che si può tirar fuori per sostenere questa tesi dice Biden ha fatto il suo e anche di più ha salvato l'America da Trump ha rimesso in piedi l'economia ha fatto questo primo mandato pieno di risultati eccezionali che elenca tutti proprio se non vuole disfare quello che ha fatto e correre il rischio di far tornare Trump deve essere un presidente di transizione all'età per esserlo e andarsene adesso però così che ci sia il tempo di fare delle primarie ordinate eccetera se io prima pensato avessi pensato diciamo avessi avrei pensato non lo so scusate prima pensavo che ci fosse una possibilità su 100 che Biden non si candidasse oggi direi forse 5 su 100 7 su 100 stanno un po' succedendo delle cosine magari irrilevanti ma che magari un giorno ci faranno dire si era già capito quando sui appunto le cose maggiori sui giornali oggi io ho ancora l'Ucraina poi ne ho un po' di cose in ordine sparso l'Ucraina peraltro in dei modi poi non so se tu su questo hai da dire qualcos'altro in dei modi sì diciamo appunto spero che tu abbia da dire qualcosa più concreto perché io ho visto di nuovo dei titoli d'aperture che continuano ad alludere a aperture a trattative a negoziati che abbiamo letto 550 mila volte cioè l'impressione è che anche la stanchezza giornalistica nel raccontare la guerra in Ucraina continui ad attaccarsi ogni volta che c'è diciamo un brandello in questo senso assolutamente poco credibile appunto a ipotesi ormai ripetute molte volte di aperture sulle trattative questa è una cosa che c'è sulla stampa italiana da quando è cominciata la guerra e insomiglia al discorso sull'immigrazione nel senso che raccontiamo e commentiamo in modi diversi ma una realtà che non c'è che non esiste durante soprattutto le prime fasi della guerra sui giornali era molto frequente questa roba degli spiragli di pace si apre la possibilità di uno spiraglio di un negoziato e al di là di quanto ognuno di noi possa considerare quella prospettiva allettante o meno a quali condizioni auspicabili o meno era notevole leggendo anche la stampa straniera come questi spiragli di pace venivano raccontati solo sulla stampa italiana quindi o gli altri non se ne accorgevano o effettivamente non c'erano l'abbiamo molto sopravvalutato in tutti questi mesi in questo anno più che abbondante ormai sono quasi due l'incontro sul grano organizzato in Turchia c'è ogni minimo contatto che veniva considerato parte di una normale dialettica durante queste settimane così complesse come l'inizio di una potenziale trattativa in tutto questo si è inserita l'iniziativa del cardinale Zuppi per conto del Vaticano che da qualche mese va a parlare è andato negli Stati Uniti è andato in Russia è andato in Cina ottenendo al momento ma questo lo dico senza togliere nulla alle buone intenzioni di Zuppi nulla niente cioè non è successo nulla e questa iniziativa non viene raccontata in nessun modo da nessun giornale del mondo perché è a oggi irrilevante poi possiamo essere molto dispiaciuti di questo ma questo è salvo sulla stampa italiana dove oggi addirittura Ucraina voglia di trattativa ora la Cina apre sulla pace cioè se questa cosa fosse vera sarebbe non solo non a pagina 16 ma in prima pagina sarebbe su tutti i giornali del mondo non è vera ma il solo fatto che Zuppi sia stato accolto in Ucraina e non gli abbiano sbattuto la porta in faccia in Cina scusate non gli abbiano sbattuto la porta in faccia viene rivenduta per l'ennesima volta tra l'altro come uno spiraglio di pace che per quello che sappiamo farà la stessa fine degli altri cioè al momento le condizioni non ci sono perché ci siano davvero degli spiragli o trattative di pace io sono alla fase cosa in ordine sparsi quindi se tu hai ancora dei titoli maggiori una cosa sulla Cina visto che è un pezzo di questa storia oggi si parla molto di Cina sui giornali per moltissime ragioni diverse poi se vuoi alcune anche collegate tra loro la Cina è in un momento di grande difficoltà tutta la narrazione diciamo molto sta per cambiare il mondo sta per cambiare tutto la Cina supererà gli Stati Uniti la Cina diventa la prima potenza mondiale non si fermano più si è molto arrestata in questi ultimi mesi perché l'economia cinese si è molto arrestata mentre gli Stati Uniti sono ripartiti con grande forza e l'Europa è ripartita con tante difficoltà ma in qualche modo diciamo le nostre economie sono tornate quasi tutte ai livelli pre-pandemia la Cina sta avendo grosse difficoltà in termini di esportazione in termini di produzione industriale in termini di mercato immobiliare la Cina ha costruito grande parte del suo sviluppo di questi 20 anni con investimenti pubblici su infrastrutture e case e palazzi e città costruite quasi da zero e ora un po' non è rimasto più niente da costruire un po' lo Stato non può più investire così tanti soldi nella costruzione anche perché ci sono tantissime di queste infrastrutture che sono vuote palazzi vuoti case vuote per cui le società immobiliari sono praticamente collassate una è fallita la più grande società immobiliare cinese è fallita insomma un momento di grande difficoltà in tutto questo succedono anche delle cose che diciamo viste da qui sono piuttosto strane per quanto in Cina non lo siano Giulia Pompili oggi scrive sul foglio immaginate se a un certo punto Antonio Tagliani ministro degli esteri italiano sparisse all'improvviso non si presenta più agli eventi non si vede più tra i veicoli attorno a Palazzo Chigi il governo come se niente fosse non dice nulla sulla sua sparizione che dura settimane e mesi e manda a sostituirlo il suo predecessore Luigi Di Maio che comincia a presentarsi al posto di Tagliani a fare il ministro degli esteri quando qualcuno chiede spiegazione gli viene risposto Tagliani ha problemi di salute solo che poi un mese dopo più o meno la stessa cosa succede a qualche generale dello stato maggiore e poi sparisce pure il ministro Crosetto anche lui dal nulla all'improvviso ufficialmente per motivi di salute non è fantapolitica non è nemmeno l'inizio di un romanzo distopico e ciò che sta succedendo in Cina fin dal giugno scorso dopo la nomina a ministro degli esteri e ministro della difesa rispettivamente di Kim Gang e Li Shang Wu due politici importantissimi ministro degli esteri e ministro della difesa che spariscono per mesi come fino a qualche tempo fa capitava in Cina agli imprenditori soprattutto e poi a un certo punto arriva un nuovo ministro che a volte è il vecchio ministro senza dare alcuna spiegazione sta evidentemente accadendo qualcosa che non conosciamo fino in fondo un po' per le ragioni che diceva prima Luca sull'Iran perché questi paesi non avendo nessuna stampa libera non dovendo rendere conto alla popolazione di quello che accade ci lasciano intuire carpire delle spiegazioni possibili ma di certo sta succedendo qualcosa in Cina altre cose interessanti su questo fronte c'era una cosa sulla stampa a pagina 23 scusate che la riprendo facendo morning più semplice è semplice questa cosa perché poi taglio tutti i silenzi Pechino accusa l'Europa è invidiosa dei nostri veicoli elettrici c'è tutta una partita attorno agli incentivi e gli aiuti che la Cina dà alle proprie imprese anche perché la Cina è un paese in cui le aziende private anche se formalmente private fanno quello che fa il governo e quello che gli dice di fare il governo e l'Europa ha accusato la Cina aprendo un'indagine di violare così le regole del mercato la Cina attraverso diciamo un giornale controllato dal governo e dal partito ha detto le automobili elettriche cinesi hanno brillato al recente salone internazionale dell'auto in Germania e in quell'occasione abbiamo sentito alcuni commenti invidiosi non ci aspettavamo che la risposta dell'Europa fosse così eccessiva se all'Europa mancano la fiducia e il coraggio necessario ad acquistare attraverso i mercati con una concorrenza leale spazi di mercato sarà impossibile affermare questa competizione nel settore dei veicoli elettrici insomma che la Cina ci voglia insegnare la concorrenza leale mi è sembrato abbastanza divertente l'altra storia che non c'entra nulla con tutto questo ma è molto raccontata sui giornali è una storia di cronaca è la storia di una ragazza a Napoli che è morta nella sua vasca da bagno quando le è caduto il telefono che era sotto carica dentro la vasca da bagno è preso la scossa ed è morta e la storia riguarda il cavo con cui stava caricando questo telefono perché i cavi più moderni e a norma sono dei cavi che non permettono che questo accada per come sono costruiti appunto la cosa impressionante a leggere il titolo su questa storia che è successa a maggio cioè oggi viene raccontato uno sviluppo che ora vi dice Francesco la cosa più impressionante è appunto che ci suona addirittura un po' anacronistica con le raccomandazioni di quasi novecentesche che oggi mettiamo quasi insieme a non fare il bagno diciamo subito dopo aver mangiato attento a non prendere la scossa con le cose elettriche perché ci sono diciamo oggi non prendete la scossa con le cose elettriche diciamo state attenti e prudenti su tutto questo però diciamo siamo abituati che è stato un po' ridimensionato dal punto di vista degli interventi sulla sicurezza degli apparecchi dei sistemi elettrici eccetera questo rischio qua invece appunto questo cavo non era un cavo a norma è la notizia per cui oggi questa storia torna sui giornali che ci sono quattro cinque imprenditori indagati quattro di origine cinese accusati di omicidio colposo froda in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi mendaci perché ci sarebbe un certo numero anzi il Corriere scrive un gran numero di caricabatterie potenzialmente pericolosi che vengono diffusi col marchio c'è il marchio che dovrebbe rassicurare chi li compra sul fatto che sia una norma e in realtà non lo sono rimanendo c'è ancora una cosa italiana che c'è su diversi giornali oggi non tutti e anche questo non tutti è interessante perché riguarda abbastanza i giornali ma è una notizia è una notizia di cronaca giudiziaria ve la leggo come la racconta un editoriale del foglio il foglio infierisce molto perché è molto nei cavalli di battaglia diciamo assolutamente o assolutamente spesso comprensibili del foglio il fatto che determinate inchieste poi finiscano nel nulla e fossero completamente infondate l'editoriale del foglio è intitolato la loggia ungheria era una patacca con loggia ungheria fra virgolette forse qualcuno di voi si ricorda quella storia diciamo non so quanto l'avete seguita perché era abbastanza convulsa e anche faticosa da seguire ma sicuramente occupò un grande spazio una grande attenzione anche con un grande investimento appunto di credibilità da parte di diversi giornali scrive il foglio la loggia ungheria la fantomatica associazione segreta composta da magistrati politici generali delle forze armate imprenditori e persino esponenti del vaticano finalizzata a condizionare istituzioni e organi costituzionali non è mai esistita è la conclusione a cui è giunto prevedibilmente il giudice delle indagini preliminari di Perugia che ha archiviato le indagini accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla procura del capoluogo Umbro guidata da Raffaele Cantone alla quale erano stati trasmessi gli atti da Milano il procedimento era infattinato in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Piero Amara al PM di Milano Paolo Storari quest'ultimo avvertendo una sorta di inerzia dei vertici della procura sull'indagine consegnò poi nella primavera 2020 i verbali di Amara coperti da segreto all'allora consigliere del CSM Pier Camillo Davigo che con il suo fiuto investigativo questa è una frecciata del foglio a Davigo anche qui ci sono diciamo delle questioni piuttosto estese che vanno anche oltre questa storia che con il suo fiuto investigativo credette subito all'esistenza della loggia massonica poi negata dalle indagini condotte dalla procura perugina scrive la procura di Perugia sull'esistenza dell'associazione non sono emersi elementi neanche indiretti che potessero attestarne l'esistenza al di fuori delle dichiarazioni di Amara e delle dichiarazioni di un altro indagato socio di Amara che però si è limitato a dichiarare il dato dell'esistenza dell'associazione senza fornire alcun elemento diretta e appunto al di là del tema della storia il fatto che oggi molti giornali non parlino nemmeno appunto di questa richiesta di archiviazione anzi di questo accoglimento di archiviazione oppure ne parlino in spazi limitati rispetto allo spazio che era stato dato a suo tempo appunto a queste accuse e queste ipotesi dice anche diverse cose dei giornali e dell'informazione io sono stato molto sollevato quando ho letto la notizia stamattina perché in questi due anni a Morning un sacco di volte mi sono dovuto chiedere la racconto o no questa cosa la spiego o no e poi un po' perché era impossibile ricostruirla spiegarla ci vorremmo mezz'ora un po' perché appariva un po' inconsistente ho sempre detto vabbè la prossima volta la racconto e alla fine non l'ho mai fatto e quindi il fatto che oggi questa cosa si è finita in nulla mi solleva moltissimo meno male puoi anche evitare e puoi anche evitare diciamo tu lunedì di dire che è finita in nulla non ne avete mai saputo niente non era niente è andata ci sono due cose per alleggerire due cose fotografiche divertenti che volevo segnalare sul Corriere della Sera una in realtà non è solo sul Corriere della Sera è anche su altri giornali perché è una campagna pubblicitaria sul Corriere della Sera è a pagina 22 di BMW in realtà non è esattamente di BMW ma è di un service di assistenza di BMW forse l'avete notata c'è da un po' di giorni in giro ed è una campagna diciamo il cui claim è rilassati ci pensiamo noi e l'idea è appunto che questo servizio di assistenza di BMW sia molto premuroso ed efficace su qualunque problema voi dobbiate avere con la macchina ma il fatto che BMW associ la sua comunicazione di idea di relax BMW cioè capito non è che stiamo parlando con rispetto parlando della città dove siamo c'è della panda no? BMW ah un signore con una seggiolina pieghevole che va in spiaggia non si mette se lo tira un po' più su con delle improbabili ciabatte che forse diciamo potrebbero suonare glamour per qualcuno ma anche i soldi per affettare due lettini in spiaggia ma sì cioè questi figurati fa una gran simpatia l'idea appunto di riconoscersi in tutto questo con l'ombrellone sotto il braccio no? e però appunto proprietario di BMW quindi mi sono chiesto avranno anche la borsa frico secondo me con i panini sicuro guarda c'è uno shift di marketing che BMW vuole dirci siamo come voi appunto potete comprare una BMW anche voi altri che andate con l'ombrellone e le ciabatte eccetera eccetera l'altra cosa l'altra foto che volevo mostrare invece a pagina 25 diciamo la involontaria diciamo vittima di questo esempio è lo scrittore Alessandro D'Avenia ma nella tipica posa no vai sulla foto nella tipica posa dello scrittore no? del fotografo che ti dice per favore ti metti così no perché e quella diciamo è una posa da miliardi di quarte di copertina eccetera che abbiamo visto inflazionate tantissime volte che nessuno mai assumerebbe in una condizione normale ma che è probabilmente incolpevole D'Avenia e c'è un fotografo che ti dice ti puoi mettere così e se non vuoi essere cafone ti metti così ci sono in giro delle mie foto che una volta un fotografo mi costrinse a fare a Mantua al festival della letteratura in cui io sono tipo di profilo mi giro e mi tengo qualche incolletto dalla camicia non so perché ma te mi vieni meglio e sono ancora in giro quindi sì solidarietà le voglio raccontare una cosa io scusami però diciamo Corriere della Sera Massimo Gramellini rubrica di prima pagina quotidiana per esperienza è molto difficile fare una rubrica quotidiana parlare ogni giorno e lo faccio ogni mattina è riuscire a non dire mai delle banalità è difficilissimo perché nessuno ha delle cose intelligenti da dire ogni giorno quindi sono più che solidale col fatto che ogni tanto non hai abbastanza idee o non hai l'idea giusta e ti devi inventare qualcosa però oggi Massimo Gramellini parla dei tatuaggi delle persone che hanno dei tatuaggi parte dalla storia di un personaggio televisivo una conduttrice che si sta facendo rimuovere dei tatuaggi che aveva perché non li vuole più e scrive tranne che sull'origine extraterrestre di Polino Pulici il bomber della mia adolescenza nella vita ho cambiato idea quasi su tutto canzoni passioni ma mentre un quadro che non mi piace più lo posso sempre regalare o relegare in cantina la pelle è una compagna indissolubile come si può non tenerne conto quando si decide di marchiarla con inchiostro permanente che mi sembra un'ottima ragione per non fare un tatuaggio se la pensi così figurati più che legittimo però non so domani Venezia bella ma ci vivremo dopo domani non sappiamo più come vestirci con questo tempo cioè mi sembra un po' una banalità la prima pagina del Corriere della Sera è uno spazio che forse meriterebbe guardate la faccia dell'uomo in totale sintonia con Gramellini su questo tema e dei tatuaggi ma che decide di non intervenire per non mettersi in difficoltà perché percepisce anche che l'età media del pubblico sia più simile a quella di Francesco Costa che non ha la propria allora io ho praticamente finito ho ancora tre cose diciamo per risollevare anche un po' di rispetto a la strattezza la vaghezza la volatilità di cose che abbiamo raccontato ho tre cose molto concrete sono le cose più affascinanti che poi alla fine ci sono sempre sui giornali la prima è un pezzetto di Luigi Ferrarella nelle pagine dell'economia ma Luigi Ferrarella si occupa di questioni giudiziarie processuali in genere appunto comunque di applicazione leggi sentenze con grande sapienza e competenza con una grande capacità di spiegare le cose oggi mette insieme un punto un po' cose che riguardano la procura di Milano e cose dell'economia e spiega che finalmente sono stati aumentati gli stipendi alle guardie giurate è una storia che era un po' emersa nei mesi scorsi perché c'era un confronto sindacale che appunto è diventato una questione anche legale e processuale che aveva raccontato la esiguità degli stipendi delle guardie giurate e oggi Ferrarella scrive da taluni salutata come soccorso giudiziario a lavoratori con paga bassa contrattualmente prevista di 5,37 euro l'ora nella vigilanza privata non armata da altri criticata come ingerenza togata in dinamiche sindacali la serie di commissariamenti dal PM Paolo Storari nella procura di Milano produce impensabili assistamenti in mercato non solo in aziende che come Mondialpol già in una manciata di giorni avevano alzato gli stipendi del 20% subito e del 30% a fine di un triennio per uscire dall'amministrazione giudiziaria decisa dalla procura adesso lo fanno società ancora nemmeno sotto indagine evidentemente valutando economicamente reputazionalmente meno costoso adeguarsi in anticipo in Ronda Service sede legale a Verona ma controllata dal gruppo Bergamasco Fidelidas del presidente Giacomo Gnutti i 700 vigilanti non armati sinora guadagnavano per 40 ore settimanali ogni mese circa 935 euro ma i sindacati della società in un percorso coordinato dall'avvocato ha invece comunicato che già dalla busta paga di settembre riconoscerà 264 euro in più al mese e nell'ambito appunto di altre cose che riguardano settori importanti rilevanti con cui abbiamo a che fare la maggior parte di noi magari superficialmente appunto e che però hanno tutte delle economie e delle questioni dietro come spesso avviene le cose più interessanti sono sul Sole 24 ore ve ne cito due riguardano tutte e due l'alimentare il primo è un pezzo molto ricco di informazioni intorno alle patate un anno terribile per le patate c'è chi li chiama ferretti chi spaghetti e in altri modi differenti a seconda delle zone d'Italia sono i vermi delle patate e la teridi il nome scientifico che negli ultimi anni stanno colpendo sempre più pesantemente le coltivazioni nazionali in alcune zone di produzione questo è un virgolettato l'infestazione sta crescendo in modo esponenziale distruggendo i raccolti racconta Augusto Di Silvio presidente dell'unione nazionale dei produttori di patate ad esempio nel bolognese l'anno scorso è stato perso circa il 30% del racconto quest'anno e quest'anno le perdite saranno maggiori un grave danno che si aggiunge a quelli provocati dall'alluvione in Romagna e più in generale all'effetto delle piogge copiose della primavera che in alcune regioni hanno ritardato di molto le semine influendo ora sulla qualità e quantità del raccolto i dati definitivi della campagna in corso si conosceranno solo a metà ottobre ma Di Silvio non teme di sbilanciarsi stimando che quest'anno si potrebbe arrivare a perdere dal 20 al 25% del raccolto anche se fortunatamente la qualità sembra buona seppur con calibri più piccoli e nella pagina accanto un'altra appunto storia di come vanno le cose e come funzionano le cose che poi fanno arrivare sulle nostre tavole come si dice diciamo alcuni prodotti c'è una spiegazione di un'altra crisi che in realtà era stata già un po' raccontata nei giorni scorsi soprattutto nella forma la Francia ci ha superato nella produzione del vino che però ha un elemento ulteriormente interessante ed è intitolata nella vendemmia 2023 il calo produttivo e soprattutto del bio quella 2023 spiega Giorgio Dell'Orefice resta una vendemmia difficile per il vino italiano a causa del massiccio ritorno innescato dalle abbondanti piogge primaverili delle principali patologie della vite in primo luogo il fungo della peronospera ma anche gli attacchi di oldio 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 non l'avevo mai sentito spero diciamo di averlo detto o oidio forse problematiche non posso aiutarti siamo su quel fronte mi dispiace lo so dovevamo prepararci meglio problematiche quasi scomparse nelle ultime due annate grazie a caldo persistente e siccità beh interessante cioè c'è un pezzo che sta dicendo e poi lo articola meglio che il vino biologico in particolare la produzione del vino biologico è stata aiutata dalla siccità e sfavorita dalle piogge diciamo naturalmente questo non deve andare in difesa della siccità e in attenuazione dei problemi della siccità però è un interessante esempio che dovremmo applicare sempre poi della complessità dei fattori cause conseguenze relazioni e variabili appunto nei risultati che poi apprezziamo come negativi o positivi voi pensavate che avendo parlato noi di patate di vino era giunta l'ora di abbassare la guardia invece Alessandro Sallusti volevo dirvi oggi è l'oggetto di un ritratto molto istruttivo perché con un sacco di informazioni e divertente di Michele Masneri sul foglio perché Sallusti è appena tornato a essere il direttore del giornale ed è uscito questo libro intervista in cui è un po' intervista un po' biografia con Giorgia Meloni che lo ha reso ulteriormente rilevante di questi tempi l'articolo poi se vi interessa lo leggete io me ne racconto due cose molto brevi la prima è l'attacco perché l'attacco del pezzo contiene l'informazione che diciamo nel mondo del giornalismo tra detti lavori eccetera è molto diffusa su Alessandro Sallusti e cioè che ci sono due Sallusti uno è Nosferatu il roccioso ex direttore di Libero giornale di vario pinta vanguardia reazionaria compagno decennale di Daniela Santanchè un uomo con uno se lo immagina come il direttore di Libero che pubblica quelle cose eccetera il punto è che poi tutte le persone che conoscono Sallusti effettivamente dicono che è una persona adorabile intelligentissima coltissima educatissima e queste due immagini che evidentemente però sono compatibili stridono un po' perché poi c'è l'altro Sallusti c'è il Sallusti ormai nella stanza dei bottoni che sussurra a Meloni c'è il Sallusti bravo ragazzo cattolico del lago di Como che ama la vita semplice c'è il Sallusti che ha avuto effettivamente questa relazione decennale con Daniela Santanchè e che racconta Masneri in questo articolo sono stati dieci anni turbolenti perché ogni anno con Daniela Santanchè è come la vita dei cani ne vale almeno tre e a Sallusti viene attribuito questo virgolettato da Masneri dopo dieci anni con la Santanchè il mio sogno è stare in tuta a guardare Domenica Inn è un articolo molto ricco tra l'altro appunto considerazioni supportate dagli elementi scientifici di fatto tipo gli sono venuti due infarti durante il periodo in cui stava veramente sì sì c'è scritto a un certo punto forse abbiamo finito sì guarda l'ultimissima c'è su domani un pezzo che rispetto a quella questione di questo studio sul covid che dice che chi ha dei geni che risalgono all'uomo di Neandertal è più portato ad avere gravi conseguenze in caso di contagio molto raccontato in questi giorni l'articolo di domani si distingue perché dice un'altra cosa e dice questo studio non dimostra nulla cioè è vero che c'è una malattia più grave se hai quei geni lì ma questo non spiega come hanno detto invece in tanti il grande aumento di casi la gravità della situazione a Bergamo in provincia di Bergamo nelle prime fasi della pandemia perché lo studio non confronta quei dati lì di Bergamo con dei dati di un altro posto in cui ipoteticamente ci fossero meno persone con quei geni se la storia vi interessa Andrea Casadio che è un medico oltre che un giornalista scientifico la racconta e la spiega molto bene in questa pagina su domani ci sono anche altri due che la spiegano bene in un podcast bravo si chiamano Emanuele Menietti e Beatrice Mautino il podcast si chiama Ci vuole una scienza è un podcast del post appunto e tra le altre cose compreso il rapporto fra i gatti e il tonno appunto ne parlano in questa puntata di Ci vuole una scienza ti sei hai recuperato la data certo grazie Francesco ovviamente ci rivediamo qui il 21 ottobre per un'altra rassegna stampa ci rivediamo qui anche l'11 novembre di nuovo è il 18 novembre la settimana quindi successiva troverete qui non me e il direttore ma Luca Misculin che farà una specie di edizione live di Morning Weekend una rassegna stampa della stampa internazionale quindi di giornali stranieri qui al circolo dei lettori immagino sempre alle 11 Cosa spiegate bene è in vendita lì fuori diciamo abbiamo fatto tutta questa cosa intorno a questo numero Cosa spiegate bene in modo che diciamo quando adesso venite a fare firmare le copie del suo libro a Francesco io non rimango in quell'imbarazzo che non mi si fila nessuno e vi posso firmare due copie almeno di Cosa spiegate bene grazie mille a tutti i giornali sono del se volete i giornali sono qui dei primi che arrivano grazie a tutti